Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi sarà un episodio un po' particolare in cui andremo a parlare di diversi modi in cui i ragazzi giovani possono guadagnare qualcosa. Allora, spesso navigando su internet o comunque cercando su youtube vengono sempre fuori questi video con guadagnare 12.000 euro nel giro di 5 secondi senza spendere un euro, guadagnare, diventare milionari con il dropshipping, diventare milionari con Amazon FBA e tutta questa serie di video che propongono tutta una serie di business che diciamo sono, ok, sono dei business veri però non è vero che richiedono 100 euro per iniziare. Con il dropshipping per esempio non è vero che bisogna avere 100 euro per iniziare, anzi bisogna averne qualche migliaio. Lo stesso con Amazon FBA, bisogna avere 8-10.000 euro perché comunque si parla di business che se vogliono avere successo devono essere scalati in modo consono avendo fatto dei corsi, insomma, avendo comunque un certo background sia di tipo comunque relativo al business sia comunque riguardante l'economia, l'amministrazione, insomma avere, saper mantenere dei rapporti con dei fornitori esteri, insomma, è una cosa estremamente difficile non è assolutamente vero questa cosa e soprattutto i corsi che ci vengono propinati spesso alla fine si dimostrano essere delle fregature. Proprio per questo comunque io ho iniziato ad intraprendere, diciamo, sto pensando di intraprendere comunque un percorso relativo al dropshipping per mostrarvi in realtà tutti i lati che ce ne sono dietro sia positivi che negativi. Ora, questa è un'idea che sto avendo, diciamo, da una settimana circa quindi adesso appunto vedrò se realizzarla e in che modo svilupparla. Però diciamo che questi modi esistono ma diciamo che secondo me non sono per tutti esistono dei modi che noi possiamo utilizzare per veicolare dei soldi a noi e questi modi in realtà sono secondo me le cose più semplici che ci possono venire in mente ovvero sono di sfruttare le nostre passioni. Ebbene sì, tu dirai perché vuoi farmi sfruttare la mia passione che non riesco a tirarne fuori un euro? Non è vero perché nella realtà dei fatti noi quando abbiamo delle passioni che possa essere la fotografia, possa essere la musica, possa essere tutte le passioni che possono avere spesso alla fine ci spendiamo veramente tanti tanti euro senza neanche rendercene conto, basta pensare alla passione per la fotografia spesso cominciamo con una camera come questa che costa pochi centinaio di euro da cui riusciamo a tirare già comunque fuori degli ottimi contenuti video per poi passare a macchine fotografiche a 2-3 mila euro e perché no? Possiamo utilizzare questo strumento appunto per veicolarci dei soldi appunto per ripagarci questo hobby, per pagarci comunque le spese insomma per decidere cosa farne e infatti oggi appunto voglio parlarvi di questi modi in cui si possono pensare di guadagnare dei soldi avendo appunto diciamo zero soldi da parte, zero risparmi da parte ma partendo alle nostre passioni il primo esempio di cui vi voglio parlare è la fotografia barra videomaking in quanto spesso sono secondo me delle cose che sono estremamente sottovalutate ma che in realtà ci possono permettere di vivere è vero non sarà semplice di vivere di videomaker però all'inizio come prima esperienza anche da scrivere sul curriculum è secondo me estremamente positiva come cosa beh iniziamo col dire che per fare foto e video non è necessario avere macchine da 2 mila euro rig da 12 mila si può avere tranquillamente un iphone si possono scattare foto bellissime come si possono avere la macchina fotocamera che mi stai prendendo in questo momento o macchine molto più costose allora perché dico che con la fotografia si può iniziare a tirare fuori qualche soldo spesso in realtà si pensa che le nostre fotografie devono andare soltanto su Instagram per guadagnare like, diventare degli influencer diventare tutta la nuova Chiara Ferragni nella realtà dei fatti secondo me non è così con la nostra semplice macchina fotografica un flash da 60 euro e un obiettivo kit possiamo andare a fare foto un diciottesimo senza problemi con un minimo di post di color riusciremo a tirare fuori delle foto veramente veramente spettacolari utilizzando soltanto appunto la nostra passione per la fotografia magari sono soldi che abbiamo già speso in una macchina fotografica che ci rientreranno oppure ci potremo comprare l'obiettivo dei nostri sogni però partiamo da fare questo genere di fotografie partiamo con cose semplici magari facciamo fotografia a un diciottesimo facciamo fotografie magari a delle modelle facciamo che ne so, fotografie di prodotti perché molto spesso dei negozi vogliono appunto aprire degli shop online, degli store online e gli servono qualcuno che gli faccia la fotografia del prodotto quindi perché no? andiamoci, proviamoci, proponiamoci al cliente poi se il lavoro magari non gli piacerà perché ci siamo rimasti, siamo stati poco professionali lo rifiuterà però innanzitutto proviamoci lo stesso possiamo provare a fare fotografie per il settore del real estate andiamoci a fare un giro su immobiliari.it veniamoci che rendiamoci conto che molte degli immobili commercializzati hanno foto penose e vi posso garantire personalmente che delle foto ben fatte favoriscono la commercializzazione dell'immobile quindi buttiamoci in queste cose a mani basse, proviamoci al massimo il cliente rifiuterà il nostro lavoro però noi ce l'avremo provato e avremo fatto esperienza che è la cosa fondamentale un'altra cosa di cui secondo me si può iniziare a parlare e di cui tirare su qualche soldo per l'appunto è la musica spesso molti ragazzi hanno la passione della musica scrivono brani compongono brani però spesso poi non vengono scoperti da etichette, discografiche, major insomma e spesso alla fine si rilegano delle possibilità o comunque si negano delle possibilità andando a pubblicare soltanto i nostri brani su SoundCloud, YouTube ma nella realtà possiamo proporci in modo diverso possiamo andarci a proporre per fare serate di accompagnamento musicale in un locale andarci a intrattenere per fare musica dal vivo a provare a fare del karaoke a mettere la musica ad un karaoke magari siamo dei DJ o comunque persone a cui piace la musica elettronica abbiamo una console di livello base andiamo a suonare a dei diciottesimi andiamo a suonare delle feste diciamo molto semplici poi se ci piace spenderemo altri soldi prenderemo console più evolute delle luci e andremo a farci dati più importanti utilizziamo questo veicolo della musica per magari trovare dei soldi extra per pagarci le nostre console le nostre attrezzature delle chitarre nuove degli amplificatori nuovi butto così delle cose a caso quindi secondo me questo qua è un modo estremamente interessante quello della musica lo stesso non buttiamoci magari a fare musica dei matrimoni o a feste di laurea se non siamo capaci però a un diciottesimo è veramente molto semplice suonarci e lo dico per esperienza diretta oppure andare a fare foto diciamo per il real estate sono cose estremamente semplici da fare che non richiedono una grossa preparazione tecnica basta avere una macchina guardarsi due tutorial su internet provare a fare due foto a casa nostra e capire come si fa il resto dopo viene da sé un altro modo che secondo me è interessantissimo ma che è il più sottovalutato di tutti ragazzi le ripetizioni ebbene sì le ripetizioni secondo me sono una sono un business un business che non piace neanche chiamarlo business sono comunque delle attività che ci fanno guadagnare tantissimi tantissimi soldi se siamo in una città grande ora non truffiamo la cosa principale è non truffiamo il cliente non truffiamo il cliente ma rendiamoci disponibili soltanto per cose che sappiamo fare io ho fatto ripetizioni e l'importante è sempre dire alziamo la mano diciamo ok lo so fare accetto l'incarico no non lo so fare e rifiuto l'incarico poi è vero bisogna buttarsi ogni tanto e provare però ecco andiamo sempre a colpo sicuro perché il ragazzo che stiamo aiutando ha bisogno di noi quindi presentarci impreparati non è assolutamente bella come cosa quindi quello che vi dico è provateci buttatevi e fate ripetizioni soltanto per le materie in cui siete forti vi sentite esperti e a persona a cui ritenete di saper spiegare bene le cose ovviamente da parte per le persone diciamo un po' più grandi chi fa almeno l'università perché può andare ad insegnare ragazzi delle medie e delle superiori ovviamente un ragazzo delle superiori non è che può fare tante ripetizioni però magari può andare a fare perché no il babysitter si guadagnano 8 10 euro all'ora però rendiamoci bene conto che sono dei veicoli per per guadagnare dei soldi non deve essere il nostro lavoro primario da cui dipende tutta la nostra e con le nostre finanze magari siamo dei ragazzi che vivono in casa con dei genitori per guadagnare qualche spicciolo e farci toglierci i nostri spizzi possono funzionare benissimo quindi ricapitoliamo il primo che di cui voglio parlare sono appunto la fotografia il secondo è trasformare la passione della perla musica in un qualcosa di più le ripetizioni e il babysitting se poi invece vogliamo spostarci verso qualcosa diciamo che ci può permettere di dare più stabilità anche in futuro possiamo partire dal portapizze che può avvenire tramite bici tramite bici tramite piattaforme come Deliveroo o Uber Eats o Glovo oppure possiamo andare a lavorare per direttamente una pizzeria oppure possiamo andare a fare il camioniere nei fini di settimana guadagniamo un centinaio di euro ma perché no riusciamo comunque a toglierci qualche sfizio in un mese di lavoro ora questo video voleva essere soltanto uno spunto se questo argomento vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e commentare secondo voi altri metodi su cui magari un ragazzo o comunque una persona che ha bisogno di in cui un ragazzo può guadagnare io quindi mi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e commentare qui sotto dei modi con cui un ragazzo magari può guadagnare due soldi ora se poi magari se questo argomento vi piace in futuro ne faremo un altro video aggiornamento vi spiegherò qualche nuovo metodo e per quanto riguarda appunto quello che ho detto all'inizio diffidate spesso da tutti questi corsi che vi vogliono vendere online per prima cosa provate a cercare qualcuno che ha avuto un'esperienza diretta nel settore e parlare con lui quindi ad esempio FBI e Dropshipping cerchiamo qualcuno che magari l'abbia fatto poi incominciamo a dire che queste attività sono attività continuative che necessitano per forza di partita IVA con tutto ciò che ne concede quindi stiamo molto attenti quando si apre la partita IVA non è più un gioco diventa un lavoro serio dove ci si possono emettere veramente tanti tanti soldi quindi stiamo soprattutto attenti ora io spero che questo video vi sia piaciuto nel caso vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 15 con i miei investimenti di febbraio ciao 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 ciao